A me piace che ci sei tu che sei sempre in questi panni, tanto lei che piega e fatta. C'è questa cosa parallela. Non anticipare troppo che c'è appena lei mette se c'è l'autore a tante. Ti trasferisci in una casa di riposo. Sto bene. Voglio restare qui con te. Sto bene.